I tempi, perché adesso con l'elezione in Parlamento dell'assessore Fabrizio Sala dovrete anche mettere mano alla giunta, saranno uguali a quelli del governo oppure farete prima per fare questo ripasso? Penso che faremo prima, saremo appena l'assessore riterrà di dimettersi, prevederemo la sostituzione. E su questo avete già individuato? Abbiamo già un'idea molto chiara con il senso di tutto, lei le vuole sapere, ma le direi che è un momento opportuno. Senta comunque ci conferma, accadinato per la regione Lombardia l'anno prossimo resta sempre lei? Io mi sono candidato adesso, ma sono assolutamente convinto di sì. Presidente, se le offrissero il Ministero dell'Autonomia e Affari Regionali ci penserebbe, ti piacerebbe? Io penso alla Lombardia e mi concentro sulla Lombardia. Grazie, bene. Grazie.